This conference will now be recorded. 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 movimento europeo guidato da per virgilio d'astoli ma diciamo come humans come rete di attivisti ci siamo fatti rischiando molto i promotori proprio operativi della campagna stop global warming granata dal percorsi all'interno dei federalisti e dei verdi soprattutto marco e c'è anche monica con noi questa sera e ha avuto un ciclo diverso da quello della iniziativa sullo stato di diritto anche grazie innanzitutto a una forte spinta diciamo quantomeno culturale mediatica sul tema dei cambiamenti climatici ma anche al fatto che abbiamo potuto rilanciare la campagna d'aprile e che adesso abbiamo sei mesi in più per raccogliere le firme fino al 20 gennaio quindi diciamo che rispetto alla durata media di una ic che è 12 mesi noi ne faremo 18 e forse questo ci porterà la maggiore età nel senso che questi sei mesi sono importanti per mettere a sistema quanto con tanta fatica abbiamo abbiamo portato avanti da un punto di vista politico questi due temi che sono stati il fondamento diciamo della dell'attivazione di humans in europa attraverso la democrazia partecipativa sono anche interessantemente due dei temi centrali del dibattito all'interno dell'unione europea sul recovery fund ovviamente non era previsto perché non era tecnicamente prevista una pandemia e quindi la diciamo l'escalation del dibattito europeo su questo si è incentrata sul recovery fund e proprio il tema in quel caso della condizionalità dei fondi europei rispetto all'aspetto dello stato di diritto e anche come generare le risorse dell'unione europea e il new deal sono ovviamente insomma parte di quello che noi stiamo cercando di fare col carbon pricing marco lo dice meglio di me però lo dico lo stesso lo schema consiglio europeo parlamento europeo e commissione rivela il fatto che l'intuizione su cui si basa human cioè l'attivazione dei cittadini e una mobilitazione popolare a sostegno di politiche che apparentemente non sono interesse elettorale o comunque interesse governativo diciamo parliamo pensiamo agli stati nazionali rende ancora più evidente il bisogno di quello che facciamo poco fa abbiamo fatto una una diretta con cristian roberto e leonardo monaco che fa parte di una delle cose che è nata insieme a humans cioè questi le dirette come strumento di attivazione di connessione con altri si chiama live to stop global warming ed è stata una puntata dedicata ai diritti civili il titolo era summer of love e con attivisti e persone del mondo femminista lgbt in varie forme di attivismo ci siamo proprio confrontati sulla partecipazione in quel caso la per stop global warming ma in generale sulla partecipazione per la conquista di diritti ed è stato diciamo interessante un intervento in particolare secondo me di simone alleva poi la potete ritrovare sulla pagina di humans che parlava su altri temi come la legge sulla omotransfobia di come a volte manchi la percezione al potere di una mobilitazione dei cittadini che spinge e di fatto questo è quello che facciamo noi tra le altre iniziative importanti a livello europeo che ci permettono oggi di ragionare in termini di movimento dei cittadini ne cito altre due in particolare anzi tre una è la petizione you can do it che è stata che è nata dall'emergenza coronavirus però come proposta di lungo termine e o anzi retroattiva sul mondo ideale su come dovrebbero essere gestite l'emergenza a livello di unione europea ha preso spunto ha preso le mosse dall'emergenza coronavirus e dall'emergenza sanitaria ma anche di diritti dell'emerge del del covid ma ha inserito anche delle proposte legate alla gestione delle crisi economiche sociali e climatiche e quello è stato secondo me è un altro molto momento molto importante del nostro percorso perché per la prima volta abbiamo individuato un problema attivato un'iniziativa una proposta incardinata a livello di parlamento europeo attraverso lo strumento della petizione e conseguito un risultato diciamo di percorso istituzionale c'è l'audizione della della petizione davanti alla commissione petizioni del parlamento europeo e anche l'inserimento del dibattito del degli alcuni temi che abbiamo posto ma anche una capacità di aggregazione sia di persone 8 mila persone l'hanno firmata sia di organizzazioni almeno una cinquantina di organizzazioni sia di altri interlocutori istituzionali parlamentari europei e sindaci una rete di circa 15 sindaci europei che ha aderito a quell'iniziativa e quindi è stato un passaggio molto importante ad aprile nel percorso di humans quella petizione era nata in seno al council on participatory democracy che è un uno spazio di elaborazione politica che humans ha lanciato e copromosso con altri in particolare european alternatives the good lobby il centro d'azione laica del belgio e ci foundation che si è svolto in quattro appuntamenti in cui su declinazioni diverse della democrazia della partecipazione dei suoi strumenti ci siamo confrontati con in media una cinquantina di persone ogni volta provenienti da diversi posti europei da diverse realtà da lì è nata you can do it e quello è uno spazio politico che come poi vedremo con marco con roberto anche a livello statutario forse ha senso in un'evoluzione di humans valorizzare l'altra cosa che è successa è stata proprio dal councilon participatori democracy l'innesto o diciamo la facilitazione o la co facilitazione della rete citizens takeover europe citizens takeover europe è una rete informale una coalizione di organizzazioni non governative movimenti e gruppi europei che sta lavorando per un rafforzamento del ruolo dei cittadini nella conferenza sul futuro dell'europa che è un altro processo istituzionale avviato dalle tre istituzioni cioè lanciato dalla commissione ma diciamo che sta prendendo forma in base al rapporto tra le tre istituzioni europee dove è previsto un percorso di revisione diciamo dell'unione europea e di potenziali riforme sia proprio nelle politiche sia nel funzionamento stesso dell'unione europea questo dipende un po dal dibattito su questo avevamo lavorato molto tra di noi in termini di analisi ma grazie al councilon participatori democracy alla rete sulle altre iniziative tutto diciamo che i humans è tra i principali promotori di questa coalizione e quindi anche qui da un punto di vista di evoluzione del movimento di ragionamenti sul movimento stesso è importante quando pensiamo a come i humans interagisce accoglie e si fa strumento un'altra formula è la collaborazione paritetica con altre reti e con altre organizzazioni questi sono un po i pilastri su cui poi ci sono le declinazioni nazionali in particolare cito le iniziative ecologiche di andrea salimbeni che hanno diciamo smosso alcune cose a livelli iperlocali hanno anche facilitato la rete di una delle connessioni a livello più di persone che si occupano di politiche territoriali qua in italia ma sono anche un altro laboratorio sull'uso della della democrazia partecipativa a livello locale che ci dà anche un approccio un know how che può essere poi portato o condiviso in altri stati europei per tenere quel filo che va dall'economia circolare del piccolo comune a stop global warming il carbon pricing a livello di unione europea l'altro pilastro è quello di politici per caso guidato da lorenzo mineo che fonde il tema dell'innovazione della partecipazione democratica cioè l'inserimento dell'istituzionalizzazione delle assemblee dei cittadini e di cittadini estratti a sorte legato a temi in realtà c'è una proposta di legge sull'istituzione di iniziativa popolare sull'istituzione delle assemblee per l'emergenza climatica ma che in realtà con l'emergenza coronavirus potrebbe diventare qualcosa di più di più ampio per esempio sulla discussione del budget della finanza degli elementi finanziari rispetto alla ripresa anche questa è una rete con altri in cui human si fa capofila in cui si interagisce con altre organizzazioni ci sono lorenzo poi magari lo dirà meglio però ci sono per esempio extinction rebellion piuttosto che oderal altri movimenti e gruppi che che abbracciano questo strumento questa tecnica e gli obiettivi politici è una panora è e poi ci sono i filoni diciamo che avevamo iniziato a pensare per il pacchetto petizioni in una fase in cui ci immaginavamo di portare proposte all'unione europea su vari temi dallo sviluppo soprattutto c'è il filone tecnologico oltre a quelli già citati su cui abbiamo avviato magari dei percorsi di elaborazione che non si sono ancora trasformati in attivazione politica anche perché ultimo punto che fa parte del discorso per fare iniziativa cioè non è per fare iniziativa servono le persone ma è su quali iniziative secondo me le persone si possono trovare affidare a quest'idea che stiamo costruendo con i humans cioè le urgenze sono reali la voglia delle persone di partecipare alla vita civica se non politica ma o politica non in senso rappresentativo esiste la sfida che ai humans ma anche lo strumento che può essere proprio essere quello spazio dove un'urgenza si trasforma nell'azione più incardinata a livello istituzionale e si fa di tutto perché poi il cambiamento possa possa avvenire e quindi con l'elemento caratterizzante degli strumenti della partecipazione che essi stessi vanno anche rinnovati a livello diciamo trasversale a tutto questo c'è infatti il lavoro che stiamo facendo sul riconoscimento di uguale dignità agli strumenti della partecipazione a livello di informazione e di investimenti dell'unione europea siamo partiti a dicembre dall'analisi di quanto investono le istituzioni europee per invitare i cittadini a votare alle elezioni europee e usando quel parametro economico con la chiave economica abbiamo cercato di elaborare delle proposte anche attraverso alcuni appuntamenti del consulon partecipato di democracy su quanto i cittadini debbano essere informati dell'esistenza delle iniziative dei cittadini europei della possibilità di firmarle dello strumento delle petizioni in uno scenario con l'europeo dove alcuni passaggi sono molto più chiari e regolamentati rispetto a quello italiano cioè le petizioni hanno un seguito o hanno un no per esempio a livello del parlamento europeo le iniziative dei cittadini europei nel momento in cui vengono raccolte le firme hanno delle tempistiche per essere discusse presentate davanti alla commissione al parlamento a differenza di quello come vediamo con la legge di interazione popolare sull'eutanasia ma anche altre la cannabis migrazioni in italia giacciono nei caffetti senza tempi certi a questo però va associato un diritto all'informazione su questo abbiamo fatto proprio questa settimana il primo incardinamento politico cioè la risposta a una consultazione della commissaria giurova la vice della commissaria europea che si occupa anche della democrazia che ha presentato il democracy action plan che è il progetto della sua commissione per la qualità dell'integrità dei processi elettorali nell'unione europea libertà di informazione pluralismo dell'informazione ma anche in chiave disinformazione fake news eccetera eccetera ma è un progetto che ha una chiara prospettiva solo elettorale il modo in cui noi abbiamo approcciato questa risposta alla consultazione della commissione che è stata appunto depositata ufficialmente l'altro ieri è invece la democrazia come una cosa più complessa che deve includere la democrazia rappresentativa e la democrazia partecipativa anche per la qualità della democrazia rappresentativa stessa e del dibattito politico abbiamo presentato quattro proposte che sono frutto anche qui di cose che trovate online e però possiamo ragionare su come si possano trovare meglio quindi investimenti invio di pamphlet informativi sul modello svizzero sulle varie iniziative rafforzamento degli info point che esistono già nell'unione europea sull'unione europea stessa l'inserimento in essi di una missione diciamo legata all'informazione sulla democrazia della partecipazione e questo è un primo spazio che poi ovviamente l'obiettivo sarà cercare di trasformare attraverso altre forme scusate se sono andata un po più lunga del solito però ci tenevo che avessimo i tasselli di come si è sviluppata la nostra azione a livello di strumenti abbiamo il forum sul sito in italiano per i registrati regolamentato da un patto di attivazione che è uno dei modi in cui diciamo vive questa comunità o dovrebbe vivere o potrebbe vivere e i canali telegram le riunioni diffuse abbiamo fatto tipo più di 120 riunioni in un anno però ovviamente tutto questo appunto deve poi deve prendere forma verso l'obiettivo di continuare a costruire qualcosa che non è né un partito né un'organizzazione non governativa ma è una cosa diversa che appunto un movimento dei cittadini quindi come cittadini stasera ci confrontiamo su questo darei la parola marco per andare avanti e anche per dirci un po che proposta di statuto stiamo ragionando e insomma che stiamo a fare grazie a tutti grazie virginia un saluto a tutti e 29 che siamo in questo momento grazie virginia per questa introduzione che è molto importante già nella convocazione degli elementi di questa presentazione sono nei loro vari aspetti quindi con i link su cuore e così ne approfitto anche per ringraziare tutti quelli che hanno lavorato da roberto a simona bonfante anche in particolare su cuore e il patto di attivazione e ovviamente tutti quelli che hanno dato la mano in in questi mesi la la introduzione di virginia importante perché mi richiama due motivazioni principali per le quali noi non abbiamo subito immediatamente deciso di avere una forma statutaria aperta come quella di un movimento politico e che in sintesi da una parte è l'ambizione di essere realmente transnazionali e paneuropei e dall'altra anche l'esigenza di mettere in piedi qualcosa per ottenere degli obiettivi e che non fosse il risultato visto che poi tutto il processo con al quale della politica dal dire al fare noi insomma delle riunioni iniziali erano nate anche successivamente alla conclusione del congresso di più europa quello che accaduto allora tutto il tema radicali eccetera 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 e a mio parere era molto importante che il percorso che noi andavamo a stabilire non fosse una reazione o un contrasto a qualsiasi altra cosa che c'è sul nel menu della politica ma che fosse in realtà qualcosa che ha di per sé potevamo ritenere utile per raggiungere gli obiettivi che ci stanno a cuore ora che è passato diciamo sinteticamente possiamo dire un anno e mezzo direi che è il momento di fare questo passo naturalmente oggi per me la coincidenza di questa riunione avviene il giorno dopo di una si vuole di un percorso dove con l'associazione luca cosciore con mina webb con figlio menagallo abbiamo dimostrato che si può realizzare una riforma o almeno una parte di una riforma molto significativa anche senza bisogno di essere in parlamento o anche senza bisogno di averla trasformata in una proposta elettorale naturalmente questo non significa che sia facile che accada sempre o che accada subito perché visto che l'aiuto fornito a per giorgio webb è del 2006 siamo nel 2020 quindi stiamo parlando di una campagna che ha avuto la necessità di tempi molto lunghi di passaggi umani e giudiziari molto articolati e molto difficili prima di arrivare a un risultato come quello della corte costituzionale e poi del tribunale di massa di ieri però è anche l'indicazione che questo tipo di percorso è possibile non è scontato ma è possibile naturalmente fare tutto questo in una dimensione trasnazionale paneuropea ha degli elementi di complessità aggiuntive la lingua il fatto che le persone fuori dall'italia magari non conoscono una storia alla quale magari invece in italia si può fare più facilmente riferimento e quindi abbiamo davanti un compito se vogliamo ancora più difficile e che necessariamente è un compito di lungo periodo però credo che non a questo punto non sia più rinviabile questa conformazione d'emergenza e provvisoria che avevamo voluto proprio con l'obiettivo che l'organizzazione non sopravvanzasse lo scopo dell'organizzazione che è il rischio di qualsiasi organizzazione al mondo sia non solo politica ma anche imprenditoriale associativa l'organizzazione diventa lo scopo e poi lo scopo si perde perché bisogna fare crescere l'organizzazione noi per un anno e mezzo abbiamo cercato di inserire iniziative ed obiettivi e di tenere la organizzazione humans un po sullo sfondo in parte questo dovrà continuare ad essere l'approccio perché attraverso le cose che vi ha detto virginia cioè la partecipazione delle reti di organizzazioni terze citizens take over europe l'appuntamento della conferenza sul futuro dell'europa il council for participatory democracy che abbiamo creato la stessa campagna stop global warming e la ice sullo stato di diritto abbiamo sempre cercato di non trasformarle in campagne identitarie per costruire l'identità e abbiamo sempre usate il cane abbiamo sempre fatto lo sforzo di farle vivere come delle campagne a disposizione di chi le facesse proprio questo dobbiamo quindi non è qualcosa che dobbiamo cambiare quello che cambia è che finora ci siamo mossi in una situazione totalmente informale e che dove diciamo che era in particolare affidata a alla mia indicazione sulle decisioni diciamo politiche della selezione delle delle campagne eccetera eccetera non mi senti più mi sentite sì 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 adesso sì ok e si purtroppo la linea wifi dicevo che mentre fino adesso la diciamo selezione politica delle iniziative e poi il coordinamento operativo sono stati affidati soprattutto all'azione all'azione mia di virginia e ovviamente di chi poi era più costantemente coinvolto nel lavoro più diciamo più quotidiano adesso non è inutile che faccio faccio nomi e chi è coinvolto lo sa e ci conosciamo adesso credo che sia il momento di aprire a l'iscrizione individuale e di andare verso un'assemblea costituente che ragionevolmente potremmo prevedere immediatamente alla chiusura della campagna stop global warming punto è che chiude il 22 gennaio perché 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 alla chiusura perché quella che intanto quella campagna può servire anche a la creazione della rete pane europea giallo già sta avendo una sua utilità per quello riuscire a raccogliere le firme non riuscire è molto diverso per il futuro delle cose che andiamo a preparare e poi c'è anche proprio un discorso di concentrare le energie su uno sforzo su uno sforzo che per me decisivo cioè è molto importante se noi riuscissimo a trasmettere a una serie di diciamo di società civile europea la necessità di trasformare la consapevolezza generalizzata su l'intervento sui cambiamenti climatici in proposta istituzionale di iniziativa popolare è un elemento fondamentale tra l'altro è forse il punto più debole più lasciato più scoperto dal vertice europeo di bruxelles poi monica su questo ha un'analisi molto più approfondita e attenta della mia però mi pare che insieme alla questione del 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 ruolo blog dello stato di diritto la questione della tassazione della co2 e in generale della conversione ecologica del fisco sia il punto sul quale sono emerse le indicazioni più deboli dal vertice dal vertice di bruxelles e quindi sono il punto sul quale una in un intervento dei cittadini che sia ulteriore rispetto a quello dei governi nazionali o dei partiti nazionali mi sembra particolarmente decisivo allora noi abbiamo uno statuto provvisorio che prevede un'associazione chiusa che ogni tre mesi fa una verifica dello statuto la prossima la dobbiamo fare entro entro agosto quindi nei prossimi giorni diciamo e io credo che in questa occasione possiamo già prevedere un'apertura di iscrizioni a mio avviso ci sono diciamo così almeno due modalità di coinvolgimento il patto di attivazione che non è l'iscrizione ma è la registrazione al sito con tutti i diritti e doveri di coinvolgimento nell'azione del movimento l'iscrizione vera e propria è invece una a quel punto partecipazione a pieno titolo con poteri di democrazia interna diciamo di decisione interna sul futuro di humans quindi magari possiamo anche discutere di quota di iscrizione che secondo me deve essere significativamente alta nel senso che poi se una persona vuole partecipare gratis lo può fare si registra al patto di attivazione partecipa a tutto non è che non essere iscritti impedisca di partecipare una quota di iscrizione significativa serve a selezionare un coinvolgimento forte non sulla singola iniziativa ma sul progetto complessivo che un progetto di anni di molti anni come minimo di strategia che è quello della costruzione del partito paneuropeo di iniziativa popolare inserirei quindi nello statuto la possibilità di iscriversi naturalmente in una situazione dove poi gli iscritti di adesso possono votare alla assemblea costituente diciamo tra gennaio e febbraio inserirei un organo inserirei il consiglio per la democrazia partecipativa questo council for participatory democracy di già come organo dove humans coinvolge organizzazioni terze quindi per dare da una dimensione statutaria al fatto che al coinvolgimento di organizzazioni terze cioè del fatto che gli umans sia anche un movimento di servizio a altre organizzazioni per condurre l'iniziativa l'iniziativa politica dovremmo individuare delle regole anche per garantire la transazionalità sugli organi dirigenti o cose di questo tipo dobbiamo esplicitare che il patto di attivazione consente ai registrati comunque dei diritti di natura statutaria di effettivo coinvolgimento informazione ai ai partecipanti e in questo modo stabilendo queste regole adesso ad agosto a settembre vedremo se in coincidenza con la raccolta firme sul fronte italiano sulle assemblee dei cittadini estratte a sorte su quel fronte che chiameremo per comodità fronte mineo fronte mineo staderini ma diciamo che a quel punto a settembre inizia e può iniziare una anche a fianco alle iniziative in corso a partire da stop global morning stop global warming una campagna di reclutamento iscrizione adesione registrazione al patto di attivazione sul soggetto humans dove noi dovremmo rivendicare la missione di fondo la strategia la necessità non di sostituire buttare l'eccesso sputare in faccia a la democrazia elettorale i partiti nazionali e la democrazia tradizionale chiamiamola così o rappresentativa ma integrare quegli strumenti con lo strumento che oggi ancora in buona parte non c'è cioè appunto movimento pane europeo che non sia finalizzato al consenso consenso di tipo elettorale ma sia finalizzato alla attivazione degli strumenti di partecipazione per ottenere gli obiettivi di qualità della vita dell'ambiente della democrazia dello stato di diritto cambiamenti climatici eccetera eccetera e quindi insieme alle singole iniziative proporre il progetto in quanto tale e ovviamente farlo non solo in italia ma dovunque possibile questo è lo schema che è una diretta conseguenza della relazione di apertura di virginia cioè questo discorso che ho fatto lo potevamo fare un anno e mezzo fa sarebbe stato ugualmente valido in astratto ma in astratto oggi invece non è che abbiamo mosso il mondo non è che c'è tutta europa che sta aspettando il partito pane europeo però abbiamo creato quella serie di contatti di connessioni e anche di iniziative incartinate a partire da stop global warming.eu che ci possono consentire di imboccare questa strada senza paura che l'organizzazione diventi l'obiettivo perché gli obiettivi abbiamo dimostrato di averli di saperli creare di saperli discutere e quindi siamo in grado secondo me di compiere questo passo grazie marco allora ricordo a tutti che potete iscrivere a parlare usando la chat e sì ma cosa stai mangiando gilla scusami è allora nello statuto avevamo messo alla regola l'articolo 4 che non si mangia durante le riunioni è vero però sono di salatissimi e non sto bevendo alcol quindi già comunque questo va bene allora se non c'è ancora sempre no allora c'è lorenzo mio è scritto a parlare ho messo il link con la bozza dello statuto nuovo e c'è anche il link al fatto di attivazione che lo ricordo a tutti se dove se come stiamo ragionando venisse integrato nello statuto credo che abbia bisogno di una sua revisione perché lì era stato impostato su una prima struttura diciamo organizzativa in senso bello come c'è la politica in senso bello c'è l'organizzativa in senso bello cioè le relazioni e le dinamiche e il funzionamento dell'organizzazione quindi questo è un invito che faccio sia in questa riunione ma poi magari in una fase che secondo me comunque ci sarà intermedia di lavorazione dei documenti a tenere in mente i due documenti insieme diciamo e non solo lo statuto c'è molte cose possono essere oggetto del patto di attivazione più che di riforma statutaria secondo me e c'è lorenzo mineo e poi iscrivetevi pure cerchiamo di stare interventi brevi così possiamo fare più giri o risponderci a sollecitazioni eventualmente mai lorenzo allora penso che virginia e marco hanno già fatto un inquadramento molto chiaro del percorso che abbiamo fatto finora di quali sono gli obiettivi insomma di di quello che abbiamo fatto e quello che vogliamo fare probabilmente rispetto a questo aggiungo che se c'è un'idea che magari scalda gli animi delle 33 persone che sono adesso qui siamo adesso qui è il fatto che per come abbiamo impostato per come sta crescendo humans la novità probabilmente è nel fatto che è un movimento che si pone l'obiettivo di mettersi al servizio delle proprie iniziative quindi non più le iniziative diciamo funzionali a far crescere il movimento ma il contrario il movimento funzionale a far crescere le iniziative e quindi dobbiamo tenere ben presente che le due cose stanno insieme c'è questa doppia tensione da una parte di avere iniziative di successo perché crediamo che quegli obiettivi possono cambiare impattare la vita delle persone dei cittadini europei e dall'altra creare il movimento pane europeo dell'iniziativa popolare che non è un obiettivo in contraddizione diciamo come diceva marco il rischio è sempre no quello di avere l'organizzazione come obiettivo ma invece quale deve essere l'obiettivo avere un movimento che possa in qualche modo che abbia l'ambizione di trascinare da un'iniziativa all'altra i militanti insomma le persone che decideranno di iscriversi di partecipare alla vita del movimento e quindi che faccia un po da contenitore da connettore tra tutte queste iniziative dove l'obiettivo è sempre il miglioramento della qualità della vita dei cittadini io credo che questo insomma lo dobbiamo tenere presente anche perché per proprio per avere diciamo iniziative che abbiano successo è importante anche creare la rete creare il movimento in questo senso e quindi l'iniziativa italiana in questo momento che abbiamo chiamato politici per caso che riguarda la distituzione di assemblee dei cittadini estratte assorte è anche quello che può creare in italia che è il luogo dove in questo momento humans ha il suo zoccolo duro un bacino più largo insomma di di persone e anche diciamo su un'iniziativa come quella dell'assemblea dei cittadini che riflette bene la 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 natura partecipativa eh di di humans eh lo ricordo per quelli che eh non magari non avessero seguito questo filone politici per caso è una campagna che ehm poggia sulla eh su un'iniziativa una proposta di legge di iniziativa popolare che è stata depositata in in Cassazione rispetto alla quale dobbiamo iniziare a raccogliere le firme quindi ci sono sei mesi di tempo per raccogliere cinquantamila firme eh e portare quindi la proposta di legge in Parlamento la proposta di legge chiede di istituire in Italia le assemblee dei cittadini estratte assorte di farlo a partire dal tema della ripartenza sostenibile cioè eh fare in modo che questa grande quantità di investimenti eh che eh diciamo ehm saranno immessi la nostra economia eh dopo la crisi da coronavirus quindi investimenti sia italiani che europei eh possano essere in qualche modo discussi anche eh da cittadini e stretta assorte non sto qui diciamo lo lo abbiamo ripetuto eh più volte e lo ripeteremo il 4 agosto la settimana prossima dove c'è un appuntamento insomma di approfondimento eh su questa campagna che eh si pone l'obiettivo anche di preparare il lancio a settembre l'inizio della raccolta firme ma l'idea è proprio eh in sintesi quindi che di coinvolgere i cittadini sulla ehm allocazione delle risorse eh per quanto riguarda eh la ehm la eh gli investimenti ehm economici europei ed italiani eh che ehm fanno seguito alla crisi da coronavirus per la ripresa dell'economia ehm ecco eh le assemblee dei cittadini estratte a sorte eh sono anche un proprio per il tipo di di eh proposta eh che è una proposta di per sé diciamo diversa da quella che potrebbe interessare eh a movimenti che ehm vogliono gettarsi un po' nel lagone elettorale eh proprio per il tipo di 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 proposta abbiamo eh creato delle interlocuzioni con delle realtà lo ricordava Virginia che in questo sono simili a noi cioè hanno una una connotazione più da movimento partecipativo che non eh partitica e quindi dei gruppi locali eh di Extinction Rebellion ehm qualche diciamo attivista e gruppo anche eh delle sardine che parteciperanno con noi alla riunione del 4 agosto ehm degli eh degli start up vari eh che sono interessati all'innovazione sociale all'innovazione in democrazia quindi mettendo insieme questi pezzi eh di ehm organizzazioni e movimenti in giro per l'Italia eh vogliamo creare questa questa rete eh che comincia a raccogliere le firme da settembre ehm e credo che questo diciamo è molto utile anche eh per l'iniziativa Stop Global Warming cioè quei gli stessi banchetti che raccoglieranno le firme su politici per caso sono quelli che lo faranno su eh sulla 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 ICE che stiamo portando avanti e le due cose si tengono insieme anche a livello tematico perché in qualche modo la proposta è quella di un green un green deal dal basso quindi eh che i cittadini possano dire la loro su come convertire eh l'economia verso una ehm diciamo eh il verso il rinnovabile verso la eh una dimensione più sostenibile dal punto di vista ecologico e questo è di credo il disegno che presenteremo il 4 agosto quindi in qualche modo appuntamento tra una settimana eh che in qualche modo è il corrispettivo di questo appuntamento europeo quindi eh certo quello è più focalizzato su una singola iniziativa ma anche lì c'è l'ambizione quantomeno in Italia che quella iniziativa getti il seme per la costruzione del movimento quindi eh credo che eh anche il il diciamo la costruzione del del fronte italiano e delle iniziative italiane servano molto alla crescita di humans nella sua dimensione eh paneuropea e e quindi vi aspetto alle diciotto martedì potete già segnare in agenda e e lascio agli altri adesso la parola. Grazie Lorenzo ci hai scritto a parlare ma li ho trovato. Sì ciao eh c'è una dualità nella definizione di humans nello statuto eh humans è associazione e anche ha ambizione di diventare movimento paneuropeo dell'iniziativa popolare e ehm humans come associazione la vedo eh come un gruppo di persone eh ben identificato eh non necessariamente vastissimo eh ma capace di essere catalizzatore eh delle iniziative capace di anche poter eh interpretare le esigenze eh dei degli altri cittadini e mettersi al servizio affinché un numero più elevato di persone possa attivarsi. Il movimento di iniziativa popolare è più vasto come definizione e comprende altri attivisti che eh magari non necessariamente parte dell'associazione eh si battono per certe iniziative con cui human stessa vuole collaborare e eh comprende eh milioni di persone che devono partecipare anche con una semplice firma affinché una richiesta di eh di di cambio di legge venga eh portata a termine. Ora noi stiamo parlando stasera ehm della del cambio dello statuto e di come aprire l'associazione a iscrizioni eh individuali. Questo secondo me è molto importante perché permette di far crescere eh la parte associativa di humans che comunque è un nocciolo duro di eh persone che agiscono come catalizzatori e anche eh come ehm rappresentanti in parte del delle esigenze degli altri cittadini. Eh e quindi penso sia utile eh positivo aprire humans come associazione a iscrizioni individuali affinché ci sia maggiore partecipazione nella vita eh della democrazia interna di humans stessa e affinché eh si eh possano coinvolgere risorse eh umane e interesse di di persone che vogliano agire come catalizzatori per questo movimento eh panoeuropeo che se anche ci fosse adesso avrebbe bisogno di un'associazione e un gruppo di persone che eh facciano da servizio e che ehm agiscano dal punto di vista operativo e anche dal punto di vista di eh motivazione delle delle varie iniziative. Penso che ehm l'iscrizione all'associazione debba venire con dei diritti alla vita eh democratica dell'associazione di humans e qui e in particolare diritti nella eh decisione di eh quale priorità eh strategicamente eh focalizzare le risorse eh di humans e eh capacità di elaborare documenti che possano descrivere cosa humans vuole fare e quale iniziative selezionare. Nella nel draft che ho letto su su cuore eh dello statuto eh ho visto c'è la proposta di aprire le iscrizioni individuali però mi sembra un po' povera eh il diritto che l'associato eh acquisisce eh e l'associato diventa eh in quel in quel draft iniziale parte dell'associazione ehm ma non sembra avere molti altri diritti oltre a eleggere il presidente e a e a trovare i cambi dello statuto. Quindi secondo me sarebbe importante. Maglio posso chiarire questo questo passaggio? Il diritto riguarda l'assemblea costituente cioè eh dire che si fa un'assemblea costituente diciamo a febbraio a gennaio febbraio significa che tutti quelli che si iscrivono da qui ad allora avranno poi il potere costituente quindi sia sullo statuto che sulle elezioni degli organi. Volevo chiarire questo passaggio eh ovviamente ci sono sei mesi tempo per fare sì che siano un numero significativo di persone cioè affinché sia qualcosa di che abbia un senso. Ok grazie. Eh bisognerebbe chiarire quali sono questi gli organi ehm che al momento gli organi sono assemblea. No appunto quello scusa che ti interrompo ancora. Sono gli iscritti che decideranno nell'assemblea costituente un nuovo statuto con gli organi e li eleggeranno. Cioè è un potere totale a quel punto capito? Non c'è non è un potere marginale è un potere totale. Si decidono quali sono gli organi statutariamente e chi va a ricoprire le cariche. Quindi più potere di così è possibile. È il potere di un'assemblea costituente. Ok ma magari appunto va eh va va chiarito poi nel documento. Chiaramente noi l'associazione è stata già costituita quindi stiamo facendo un'evoluzione dell'associazione ehm però è un è un'evoluzione importante quindi va chiarito eh cosa poi effettivamente si vuole si vuole fare. E e comunque esattamente proprio a questo a cui voleva arrivare e mi sembra che siamo assolutamente un potere importante e perché penso che comunque eh la la partecipazione attiva dei associati e la capacità di poter eh interagire democraticamente alla vita associativa eh di di human se sia un un elemento importante. Sulla quota associativa eh poi chiaramente una parte di che verrà discussa come parte forse della eh assemblea costituente ma no immagino prima perché altrimenti non ci si può scrivere prima eh sulla sulla quota associativa io in realtà eh sarei eh favorevole nella quota associativa bassa eh per eliminare filtri economici dal punto di vista della partecipazione alla eh all'associazione ehm la mia proposta era di avere diverse quote che diano dei diversi ehm riconoscimenti non diretti il diritto è lo stesso ma un tipo di associato diverso l'associato semplice l'associato sostenitore che può avere dei eh delle eh con delle quote diverse eh ma ogni associato comunque ehm che abbia gli stessi diritti perché non ci sia una discriminazione dal punto di vista eh di vista economico. Ehm ritengo positivo l'inclusione del count del consiglio sulla democrazia partecipativa dal punto di vista simbolico nello statuto è un simbolo eh in quanto eh questa introduzione del 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 council eh come organo statutario ehm al al momento diciamo non ehm permette di di aprirci eh di di riconoscere il council come un importante ehm organo della vita associativa però è il council stesso non è ben identificato come ha detto Virginia ci sono state 50 persone che hanno ruotato intorno al council quindi non è chiarissimo eh quale sia la composizione di questo council ehm però ritengo comunque in ogni caso positivo e da punto di vista simbolico introdurre eh il council all'interno del eh dello statuto ehm con questo eh vi ringrazio. Grazie Malio. Prima di dare la parola a Subilla specifico solo for the records eh 150 in tutto più o meno una media tra le 20 e le 50 il primo 70 e poi tra le 20, 50 e 70 per ogni sessione del council che sono state quattro. Diciamo che il totale per parlare anche in termini di ehm grezzi di dati creati dal council sono circa 100 tra le 150 e le 170 le persone che si sono avvicinate a Humans per il council non partecipato ai democrati come come numeri eh sulla composizione geografica eccetera devo ricavare i dati più specifici però eh Sibilla Balbieri e Stefano Manco vado ad aprire la porta un secondo. La prima cosa volevo eh Marco complimenti per questo successo pazzesco di questa sentenza cambia la vita di tutti noi veramente grazie. Ehm allora ehm io ho una preoccupazione e oggi mio figlio mi ha cioè qualche giorno fa mio figlio mi ha fatto un saggio e io oggi sono arrivata ad un punto che secondo me era interessante per noi che era questo parlava del fatto di come le masse a un certo punto di un cambiamento epocale che sta avvenendo eh prima ehm c'era una pressione fortissima di strutture eh gerarchiche, familiari eh politiche eh sindacati, partiti eh la famiglia unita eccetera e adesso c'è una disgregazione e quindi esattamente l'opposto una disgregazione su tutti i fronti eh le persone adesso ve la sintetizzo perché secondo me ha a che fare con noi eh il passaggio che mi interessa eh le persone si sono impossessate una moltitudine di persone si è impossessate della parola e dice esprime la propria opinione su tutto eh a prescindere la competenza o meno e eh spesso questa parola espressa da queste moltitudini è una parola oppositiva eh è una parola oppositiva che in realtà raccoglie più un disagio e più il desiderio di dire io esisto piuttosto che la possibilità effettiva eh di portare fino in fondo il di ottenere un risultato. Allora eh io credo che un movimento dei cittadini in questo momento sia una cosa fondamentale perché in realtà è il tassello. Io non credo che si possa tornare indietro. Non credo che si possa tornare a delle strutture gerarchiche eh stabilite eh e rigide. Penso che si possa soltanto ipotizzare un nuovo un nuovo modo di partecipazione sociale e politica. E quindi io credo che ehm qual è il ponte che secondo me è uno che dovrebbe essere? È il ponte di queste moltitudini che hanno preso la parola ma in questo momento non la utilizzano fino in fondo ok? Per poter invece accedere a eh ad avere una struttura avere ehm un metodo e degli strumenti. Però non possiamo a mio parere costruire un movimento che ha la stessa meccanica dei movimenti passati del partito passato. Ci vuole proprio un'idea diversa. Quindi noi abbiamo un singolo il cittadino che si attiva. Ok? E ci sono sicuramente ci vuole perché un'altra un'altra caratteristica di questa di questa di questo cambiamento oltre a questa distruttura questa ehm disintegrazione è un rifiuto delle gerarchie. Ok? Io non credo che noi possiamo permetterci di non avere una gerarchia ma dobbiamo stare attenti all'idea che questa gerarchia sia una gerarchia mobile che ci sia che sia percepito come una scala per l'individuo come una possibilità comunque di salire di accedere di trasformarsi e eh quindi quando mi sento parlare e eh mi sembra che è come se ci fosse un riferimento ad un universo che dal mio punto di vista non esiste più eh e e lo temo. Quindi va benissimo avremo tutto il tempo per fare questa discussione eh fino alla nostra Costituzione. Però ci tengo a a a a mettere sul piatto il fatto che un movimento di cittadini oggi che è una cosa importantissima perché è quello che manca cioè dare la parola a questa moltitudine dandogli degli strumenti deve deve anche essere nella sua struttura organizzativa non qualcosa di ehm di antico. Ecco. Grazie Sibilla ehm rimando lo spunto della differenza tra statuto e patto di attivazione perché sono i due strumenti che potrebbero fare cose diverse. Cioè invito tutti a rileggere anche il fatto perché secondo me a questa sfumatura e anche lì si giocano. Eh Stefano Manco. Sì. Ciao. Ehm. Io mi collego a tutti i discorsi che sono sempre interessanti in queste riunioni ci sono sempre un sacco di spunti e riflessioni molto interessanti. Io ricerco di metterci eh come sempre anche un po' un porto un po' la mia anima geek nerd eh ripensando un po' eh le problematiche moderne ehm ma adesso ultimamente con nuove tecnologie e nuovi strumenti di comunicazione ovviamente uno eh delle conseguenze che viene fuori eh eh che oramai siamo tutti abituati eh sappiamo eh alla cosiddetta gratificazione immediata cioè uno va su Google cerca una cosa e una risposta cioè in quel senso siamo abituati che questo il il medium il mezzo ci dà subito una gratificazione soprattutto veloce e rapida ed è questo invece si scontra con i processi di democrazia che sono molto ovviamente molto più lente. In questo senso mi piacerebbe eh eh ragionavo su cosa dovesse essere un processo di democrazia immediata ma ehm che non sia però un processo di eh autogoverno che logoramente si ripopola da solo magari a suon di like o di post ma proprio una deve essere una una terapia di riabilitazione per per il sistema democratico della Repubblica che finora anzi è stato anche fin troppo mediato eh dai partiti e i cittadini si sono sentiti sempre più lontani quindi ehm ovviamente adesso per esempio a settembre avremo il voto sul referendum io credo in questa in questa sede saremo saremo credo io io sicuramente andrò per il per votare no perché ovviamente non voglio che far diminuire il potere dei eh il numero dei eh dei partiti ma il il loro ruolo eh è già scritto e sancito nel nella costituzione italiana anzi io andrei a chiedere ai ai partner europei come sono come sono messi loro nelle loro costituzioni rispetto ai partiti perché eh eh costituzione italiana il partito ha il il ruolo di mediatore tra eh tra i cittadini e il il potere eh ed è proprio quindi questo che era era nel cosiddetto eh nel nel cosiddetto contratto sociale che questo però pian piano negli anni si è rotto perché oramai oggigiorno non crediamo più nella nella politica non crediamo più nella democrazia e quindi questo contratto sociale non uno non si fila non si fila più che questo è una delle più grandi non si va a votare ci si scoggia ma tanto se tutti le stesse roba se più o meno sono quelli ehm ma dall'altro punto di vista invece noi siamo qui anche perché eh invece noi ci crediamo e da un certo punto di vista io credo che i cittadini anche molte volte sono stufi di essere trattati come un po' come dei figli minori da dover essere da dover essere tenuti sotto controllo e serve probabilmente andare veramente a riscrivere quella che era la la carta dei diritti e dei doveri dei cittadini dove ovviamente ad oggi noi conosciamo molto fortemente i quali sono i doveri ma c'è veramente una bassissima bassissima cultura dei diritti e in questo Marco poi ci dà delle nuove speranze si ricollega al al suo esempio e la sua vittoria processuale con con Filomena Gallo abbiamo seguito la grande la grande vittoria ieri dalla diretta su Radio Radicale che per fortuna ci dà accesso a sentire ad ascoltare tutti questi atti quindi eh una una speranza di continuare eh con le azioni di con Lorenzo con politici per caso è uno degli esempi che secondo me eh sono quelli che ci caratterizzano per quanto riguarda l'ultimo punto quindi statuto e eh distrizioni ho già detto io sicuramente mi scriverò capisco che Marco adesso eh quindi presidente quindi non c'è neanche tanto da discutere perché in teoria in maniera statutaria decidono di non mi ricorderanno i tre quattro quattro soggetti quindi se loro decidono che eh l'iscrizione di eh 200 euro come per il partito transnazionale radicale sarà quello in teoria in pratica io posso essere d'accordo che probabilmente una via di mezzo può essere una una via accessibile per tutti penso che vi aver detto tutto eh no a presto allora eh ci sono iscritti a fare dei prossimi a parlare sono Roberto Mancuso Andrea Salimbeni Leonardo Monaco e Matteo Bollo ha poi un suo commento scritto perché come disabile non riesce a parlare e quindi lo leggiamo noi Matteo se vuoi scrivere prestesamente eh scrivi pure e le ti leggo io eh Roberto Mancuso sì grazie Gilla eh innanzitutto mi scuso perché mi sono assentato cinque minuti quindi ho perso l'intervento di Sibilla e una parte dell'intervento di Maglio eh quindi mi scuso con loro e volevo un po' eh per fare un po' chiarezza e mh a me stesso innanzitutto ripercorrere il percorso che da qui a quella che sarà l'assemblea costituente di gennaio bara febbraio duemila e ventuno di Umans assemblea a virgolette costituente eh sulla scorta di quanto già prima Marco diceva a Maglio no? Quindi i nuovi iscritti che a cui la associazione l'associazione Umans si aprirà avranno un vero e proprio potere costituente quindi la prima il primo tassello il primo appuntamento sarà l'assemblea di agosto in questa assemblea su uno statuto che già esiste perché ricordiamolo a chi magari non ha partecipato a un'unione che Umans esiste come associazione al momento chiusa composta da tre persone e adesso si aprirà le iscrizioni individuali cosa significa questo? Significa che già la prossima assemblea di agosto dovrà modificare la modalità di accesso mentre finora le iscrizioni esiste una norma del nostro statuto che lo dice a chiare a chiare lettere un attimo che la riprendo eccolo qua sono soci dell'associazione l'articolo tre quelli che sottoscrivono l'atto costitutivo e il presidente decide sulla missione di nuovi soci ora invece sarà il versamento della quota che legittimerà l'iscrizione e farà richiedere in chiaro all'iscritto tutti i poteri tutti i diritti e tutti anche i doveri che derivano dall'assunzione di questa responsabilità politica quale sarebbe l'iscrizione a Umans quindi questa assemblea dovrà innanzitutto modificare questa cosa e poi c'è da dire un'altra cosa un altro livello che volevo fare non so se avete parlato so che la questione stava molto a cuore a Sibilla quindi magari ne ha già parlato Sibilla della quota associativa e io concordo con Marco che debba essere importante e significativo l'impegno prevedendo poi modalità di iscrizione errate eccetera però anch'io sono d'accordo con Marco sul fatto che la quota deve essere una quota importante secondo me non inferiore ai cento euro ma forse anche di più ma non inferiore ai cento euro in ogni caso questa è un'altra cosa che volevo dire e vengo invece al centro del discorso che volevo fare che richiama proprio quello che Gila stava evocando cioè il patto di attivazione il patto di attivazione ha già una rilevanza statutaria in quanto è previsto dall'articolo 5 quello che disciplina l'assemblea dei soci sembrano noiose queste cose ma in realtà dovremmo abituarci anche a questo linguaggio proprio perché non è che arriveremo a gennaio con lo statuto ancora da scrivere evidentemente da qui a gennaio è come se fosse un percorso costituente più che una sola assemblea costituente perché dovremmo già cominciare noi a pensare a come costruire il nuovo statuto non è pensabile arrivare a gennaio senza avere già eh pensato comunque studiato eh la costruzione dello statuto di humans pan europeo ritorno all'articolo 5 che è importantissimo delinea quelli che sono i poteri dell'assemblea l'assemblea a maggioranza elegge il presidente e approva il bilancio lo statuto le modifiche statutarie sono approvate a maggioranza dei due terzi e qui è un punto importante questo cosa significa che adesso aprendo le iscrizioni io mi auguro tante iscrizioni per humans però ragioniamo su base mille su mille iscritti e non so quali saranno le modalità di partecipazione ma in cui ci soccorre e vengono il discorso che voglio fare il patto di attivazione perché anche questa rilevanza è il secondo come l'articolo 5 dice che il voto online dei membri dell'assemblea è ammesso e si esercita nell'ambito delle norme del patto di attivazione questo cosa vorrà dire che noi dobbiamo cominciare anche a pensare a come sviluppare il sito per consentire anche come a pensare alle forme di partecipazione online noi prima del coronavirus di fatto abbiamo battezzato una sorta di smart politics no le modalità la modalità che attraverso cui ci riuniamo e soprattutto il tutto sia trasparente e pubblico questa è una cosa che è un grosso notevole rilievo politico e nel patto di attivazione però diciamo verso l'esterno adesso dobbiamo pensare a costruirci e dotarci di strumenti che parte consentano per esempio il voto online per gli iscritti e comunque a studiare anche forme di partecipazione a quella che sarà l'assemblea costituente da remoto perché noi abbiamo fatto fino alla smart politics non possiamo pensare che non sia arrivare alla sembra così senza avere una modalità di voto online e una modalità che lo programmiamo tanto lo rivendichiamo tanto come importante riforma del nostro modo di votare nel paese e poi anche naturalmente oltre che il voto online le altre forme di partecipazione e proprio perché ripeto l'assemblea dovrà modificare lo statuto con una maggioranza importante che quella dei due terzi quindi sarebbe bene garantire ancora di più e sempre meglio le forme di partecipazione alla assemblea costituente di humans e patto di attivazione sottoscrittore del patto di attivazione iscritto sono due concetti completamente diversi e a mio avviso il cuore 2.0 il core vogliamo chiamarlo o il core per dire la napoletana e che faremo sul sito di humans secondo me dovrà prevedere dovrà essere studiato molto bene prevedere sicuramente un'area di pubblica lettura però dobbiamo cominciare a chiedersi se magari proprio a quello che il patto di attivazione chiamava attivista e chiamava attivista e diceva che con la registrazione dice anzi con la registrazione al sito al cuore della politica punto ret si assume il ruolo la funzione la responsabilità di attivista quindi dobbiamo stare anche qui molto attenti a nel mettere mano al patto di attivazione perché chiaramente se vogliamo prevedere nuove forme di partecipazione e soprattutto migliorare sostenerle implementarle è chiaro che tutto si riflette debba anzi necessariamente riflettersi innanzitutto del patto di attivazione che ripeto è documento e che ha rilevanza statutaria finito qua grazie roberto c'è andrea salimbeni e poi leonardo monaco chiederei magari e poi leggiamo il commento di matteo e poi chiederai chi si vuole parlare magari inizierà a farlo subito se lo sapete così abbiamo un'idea di quanti interventi ci sono tenendo conto che andiamo avanti fino alle 10 e mezza da agenda eccomi in assoluto volevo dire che aspetto la costituzione ufficiale di humans o quantomeno appunto lo statuto a braccia aperte perché personalmente lo vedo come un sistema anche per dare una continuità alle attività quindi per me è anche un modo poi per responsabilizzare i partecipanti in quanto ufficialmente diciamo parte di qualcosa comunque che hanno deciso e quindi si sono impegnati ufficialmente a entrare a far parte di un gruppo il patto di attivazione secondo me era già un passo avanti affiancato uno statuto diventa veramente un bello strumento secondo me e magari servirà anche a me per essere per avere più continuità nelle nelle iniziative ho letto lo statuto la bozza chiaramente magari ho perso una cosa però comunque la dico lo stesso ho visto appunto uno statuto che difficilmente menziona la nazionalità dei partecipanti all'interno degli organi gestionali se così si può dire quindi il coordinamento l'assemblea dei soci che però per un movimento paneuropeo che si propone di esserlo quantomeno credo che sia fondamentale e questo perché perché magari per adesso non è una cosa urgente perché abbiamo sempre avuto la possibilità e la facoltà di comunicare in maniera molto libera tra di noi perché siamo gruppo di persone che ha avuto modo di conoscersi l'estendere il nostro gruppo il gruppo humans ad una serie di soci possibilmente ampia può portare alla volontà di persone di far parte del del consiglio di amministrazione sono il consiglio dell'assemblea dei soci del coordinamento e quant'altro il rischio è che essendo nato con l'iniziativa italiana se non tuteliamo la necessità di avere rappresentanti di diversi paesi all'interno degli organi il rischio è di diventare ancor più italiani e meno paneuropei quindi secondo me è necessario tutelare questo e cercare di spingere per avere rappresentanti di paesi diversi all'interno per esempio dell'assemblea dei soci o il participare di democracy ovviamente e lo so che è un limite perché teoricamente non dovrebbe essere non dovrebbe essere così dovrebbe essere un imposizione di nazionalità però serve perché in questo modo evitiamo di diventare un'associazione una nuova associazione italiana ecco poi questo secondo me porta anche ad un altro aspetto ovvero al momento in cui ci estendiamo a un range di persone nuove e quindi a nuovi potenziali attivisti il maggior numero di diciamo di regole tra virgolette che possiamo riportare sullo statuto ci tutela rispetto a personalità che magari vedono cosa che è un rischio comprovato in questa associazione uno strumento di sviluppo di carriera politica di interessi propri quindi chiaramente io non sono un legale tantomeno un esperto di statuti di associazioni però penso che andrebbe valutato e considerato questo per il rischio che qualcuno vada di nuovo che magari non abbiamo noi tra le nostre conoscenze più strette possa poi rivendicare la necessità e la possibilità di partecipare a questo movimento come uno strumento suo che poi può diciamo indirizzare verso iniziative che sono un po' lontane dall'approccio di UMAS questo è la mia preoccupazione fermo restando che ritengo lo strumento come fondamentale la mia preoccupazione è cosa succederà al momento fortunato momento in cui UMAS sarà un'associazione di tante persone che dall'esterno hanno voluto conoscere il gruppo per tutelarsi rispetto a quanto già si è visto in numerose occasioni anche abbastanza recenti rispetto a carriere politiche sviluppo politico strumenti che sono stati associazioni che sono state prese come strumento di carriera personale o quant'altro questo era solo lo spunto poi per il resto per quanto mi riguarda per la quota sono anche d'accordo con Matteo rispetto a più 100 euro possono essere tanti possono essere pochi a seconda delle persone potrebbe essere interessante la tassa di iscrizione presa come percentuale però diventa molto complicato da fare quindi non mi pronuncio su un ammontare definito credo che tra i 50 e 100 euro comunque dovrebbe penso sia una quota ragionevole grazie Andrea, Leonardo Monaco e io poi alla fine vorrei fare un intervento conclusivo quindi non so se Marco lo vuoi fare anche tu e in mezzo ci ispiriamo oppure voglio fare un intervento anch'io quando posso farlo anche dopo Leo grazie Gilla per rispondere anche a quello che diceva adesso Andrea che ha sollevato poi delle questioni che sono chiaramente poi devono essere oggetto di dibattito io penso che in questa fase rispetto a quello che leggiamo nella bozza che ha messo Gilla anche qui in chat siamo alle prese con una sorta di regolamento transitorio che poi porta all'assemblea dunque tutti i grandi temi della partecipazione trasnazionale degli oghi e delle cose quello poi è tutto quanto demandato all'assemblea costituente che praticamente questo gruppo dirigenziale va a convocare attraverso il regolamento transitorio per cui anche visto questo ruolo che avrà la prossima assemblea secondo me l'obiettivo che deve darsi ma sempre comunque mantenendo questa asciuttezza questa stringatezza nella scrittura dello statuto debba essere più che altro vedere come delineare le tappe che porteranno verso il congresso penso che ci possa essere spazio e poi magari se serve mi candido anche a dare una mano a buttarlo giù su creare un congresso che non sia il congresso dell'immaginario collettivo nel senso che ci vediamo a allergife alla data XY ma debba essere il processo che parte a partire dall'assemblea che fissa una serie di scadenze per le proposte varie da fare su il regolamento del congresso il nuovo statuto, eventuali modifiche al patto di attivazione e che accompagnano un processo lungo dettato anche da scadenze di varie assemblee che fondamentalmente vanno a creare un congresso che potrebbe durare anche più mesi in questa ottica anche poi volendo anche adottando altri strumenti io stavo vedendo poco fa anche Decidim che non so quali siano le sensazioni che abbiamo rispetto a questa piattaforma però mi sembra possano anche un po' conciliare eventuali necessità da integrare in un cuore 2.0 in questa ottica io sono particolarmente affezionato al sistema del patto di attivazione per cui veramente io la questione dell'iscrizione quando Marco poi parlava di iscrizione anche alta io sinceramente stavo pensando anche a 365 euro o a 500 euro nel senso che io vorrei il meno possibile rispetto al movimento che vorrei vedere una partecipazione che sia solo e unicamente legata alla quota di iscrizione ma che continua a essere fondamentalmente legata alla cittadinanza che si trasforma in accettazione del patto di attivazione ed è lì che poi si concretizza la partecipazione politica dunque il ruolo dell'iscrizione io lo lascerei degli iscritti lo lascerei a quel gruppo di persone che vuole prendersi la briga di stare lì a scrivere uno statuto e di partecipare fattivamente alla scrittura dello statuto non so qual era l'obiettivo immaginario di iscritti insomma per questo tipo di lavoro però potrebbero anche essere tra virgolette quattro gatti nel senso persone che appunto si assumono questa responsabilità iscrivendosi però mantenendo la centralità dell'azione politica sul patto di attivazione dunque trasformare il voto della mozione trasformarlo in qualcosa di diverso rispetto al voto sulla modifica statutaria o comunque anche sulla candidabilità rispetto a delle cariche che comunque abbiano un valore diverso rispetto al superpresidente che diventa tutto quanto non so se mi sono spiegato però era un pochettino il pensiero che mi è venuto rispetto al dibattito grazie Leo altri iscritti a parlare? allora faccio delle considerazioni io mi autiscrivo allora secondo me sono spunti super interessanti che mi fanno pensare che noi abbiamo costruito tutto insieme di humans fino adesso cioè ok abbiamo pensato, Marco ha avuto l'intuizione, le iniziative però ogni passaggio che abbiamo fatto è stato nello stesso tempo quello che abbiamo imparato a fare ha determinato un po' come funziona l'organizzazione ed è stato esso stesso aggregazione di persone cioè a queste riunioni ci sono una trentina di persone che io trovo queste riunioni tra quelle più attentamente pensate insieme e lo stesso vale per come abbiamo pensato altre iniziative, altre cose e si aggregano persone che magari poi non sono in altri momenti in cui degli humans si riuniscono e questo è un punto quindi secondo me la campagna e le iscrizioni va costruita insieme per farlo secondo me serviranno delle modifiche statutarie ad agosto che avvino il processo verso l'assemblea però ricordo che c'è anche un'altra assemblea in mezzo che è quella di novembre perché ogni tre mesi si riunisce l'assemblea a meno che questa commissione, insomma questa prima assemblea lo faccia quindi secondo me quello che noi potremmo pensare di fare è definire adesso le cose che serve sapere per novembre per preparare l'assemblea scusate mi sto intortando però spero che si capisca perché intendo la stessa cosa che diceva Leo cioè l'analisi degli strumenti esistenti cioè fa una modifica al patto di attivazione che dice da adesso si votano tutte le iniziative implica poi che va fatta questa cosa che va elaborata e questi passaggi li possiamo fare solo tutti insieme quindi secondo me questo processo statutario deve avere delle modifiche ad agosto delle modifiche a novembre e una modalità di collaborazione tra le persone che ci vogliono lavorare che possa avvenire quindi e chi vuole contribuire a rivedere il patto di attivazione lo faccia e aggreghi altri che lo vogliono fare quindi secondo me questo percorso è uguale a tutti gli altri e deve essere spalmato e a quel punto anche il discorso della quota di associazione può essere magari identificata una prima quota per questa fase che può pure essere rivista a novembre però è una quota che ci consenta di fare delle cose che dia ad alcune persone la possibilità di esserci vengo al punto della quota su cui sono in leggero non disaccordo però una mia prospettiva cioè che secondo me le quote diverse fanno fare cose diverse e non è detto che chi decide alcune cose sia colui che ha pagato di più cioè si possono trovare dei modi per cui alcune decisioni vengono prese da chi è socio con una certa cifra però secondo me l'elemento della quota deve essere pensato in modo che non sia un discrimine anche ai processi decisionali perché non è detto che uno che non c'è i soldi non c'è i soldi cioè penso non so una donna maltrattata che deve dare i soldi cioè cazzo ne so cosa fa non può decidere cosa decide humans perché non ci aveva i soldi cioè secondo me bisogna stare molto attenti a questo elemento che non vuol dire che non ci debbano essere delle quote alte però secondo me non è detto che il diritto di decisione debba essere determinato dai soldi queste sono le mie semiproposte spero che si capiscono bene allora ok le cose che sono state dette sono come? Andrea puoi dire no avevo puntato solo una cosa sì sì solo solo su questa cosa della quarta ce la dico prima e poi tu ripeto in realtà quello che avevo già avuto occasione di dire la volta scorsa il dibattito è sempre è abbastanza ruota sempre abbastanza dietro le attorno alle argomentazioni la quota alta qualifica l'impegno quella bassa incentiva le iscrizioni io sono diciamo non sulle posizioni estreme di Leonardo ma ho simpatia per quelle posizioni effettivamente cioè ritengo che una quota con una sua importanza punti a qualificare però non voglio essere definitivo una cosa volevo dire le quote secondo me dovrebbero essere uguali e dovrebbero dare dovrebbero definire un ambito all'interno del quale tutti gli iscritti sono iscritti quindi i diritti di partecipare agli strumenti di indirizzo dovrebbero evidentemente essere tutti uguali cioè il discorso un discorso che si possa poi che sia vero o meno non lo so però che si possa percepire come un un iscritto di serie a un iscritto di serie b non è non è adeguato per uscire da questa cosa però io avevo buttato lì una una cosa non ci ho ripensato ma secondo me potrebbe essere forse così oggetto di riflessione alcune cose che non sono legate necessariamente alla vita statutaria alle decisioni che ne so strategiche eccetera eccetera ma legate a singoli progetti e lì sì si potrebbe differenziare lì sì si potrebbe dire se tu ti impegni finanziando erediti 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 questo diritto che non è necessariamente un diritto ma che comunque ti consente di dire io quei soldi li ho messi quella cifra l'ho messa per quello specifico progetto su cui magari ho un boost in più però è un po diverso da ciò che normiamo nello statuto grazie andrea ma allora questo è l'inizio di una riflessione perché a me vengono in mente molte cose la prima che mi viene in mente è che noi oggi non siamo in grado di chiedere 500 euro ma forse neanche 100 forse neanche 50 a un numero significativo di persone non italiane la questione che diceva andrea pur essendo io convinto appunto di quello che diceva leonardo cioè sull'importanza che la partecipazione quella vera quella impegna non quella vera quella più impegnativa sulla natura del soggetto politico non sulle singole iniziative o come diceva andrea o sui singoli progetti ma sulla natura del del soggetto politico deve essere in qualche modo rivolta soprattutto a chi più che interessato a questo quel tema fa un investimento più complessivo se noi andassimo a dovere per esempio selezionare all'inizio avevamo parlato del pacchetto di iniziative dei cittadini europei poi dopo ci siamo tra virgolette resi conto non che non lo sapessimo abbiamo difficoltà di raccogliere le firme sullo stato diritto e su stopglobalwarming.eu e quindi poi abbiamo parlato di un pacchetto di petizioni elaborare un pacchetto di petizioni europee il punto fondamentale sarebbe coinvolgere decine di migliaia di persone in Europa più che coinvolgere qualche centinaio di iscritti italiani e quindi dobbiamo tenere bene presente queste due esigenze diverse nella rappresentatività sui non italiani dicevo l'altra volta o non mi ricordo più in quale riunione ma che il solito di casi è più rappresentativo di altre modalità cioè facciamo finta che noi volessimo adesso parlo in astratto inserire in un nostro comune un finlandese detto un paese a casa piuttosto che immaginare che noi adesso riusciamo a far iscrivere a 100 euro 50 o 300 10 finlandesi che poi magari votano uno di loro che entra in un consiglio è più possibile immaginare degli strumenti di sorteggio che non dei meccanismi falsamente democratici su dei numeri troppo piccoli di persone quindi questi sono tutti problemi aperti che non si chiudono in due minuti sono d'accordo con Virginia che abbiamo bisogno di un percorso e non di un solo appuntamento per quello io immaginavo che chi si iscrive tra virgolette adesso insomma quando si aprono iscrizioni si iscrive comunque al 2021 cioè si iscrive a una situazione dove i poteri statuitari poi entrano in vigore con l'assemblea costituente cioè è una specie di pre-iscrizione a un momento successivo che consente nell'attuale assetto che comunque può già essere modificato in alcuni aspetti di prepararsi adesso ad agosto poi a novembre e poi se necessario anche prima prepararsi a un aspetto che anche lì non sarà definitivo perché poi il percorso può sempre essere in continua evoluzione insisto su quest'ultimo punto è molto importante come andrà la campagna stopglobalwarming.eu perché tra di noi può valere la convinzione e l'adesione anche a un modello a un modello teorico a un modello politico il modello del movimento paneuropeo di iniziativa popolare e questo può avere un appeal un interesse per una minoranza di persone particolarmente avvertite e consapevoli sulle insufficienze della democrazia elettorale rappresentativa eccetera sulla necessità di altre forme di aggregazione ma su un pubblico più vasto è l'efficacia dell'organizzazione del movimento che fa la differenza perché se io mi vedo nella teoria un bel progetto scritto sulla carta ma non do dei segnali degli elementi che possano fare percepire fisicamente emotivamente l'efficacia di quello strumento è pieno il mondo di gente che ritiene di avere delle ottime idee su come dovrebbe essere rivoluzionata la politica mondiale l'ONU i partiti di tutto il mondo e a volte sono effettivamente anche delle buone idee cioè che sono tutti o che siamo tutti dei matti o degli stupidi però la selezione non è semplicemente sull'idea e su qual è il modello teorico più convincente la selezione è anche se cioè quando Virginia è intervenuta alla commissione petizioni del Parlamento europeo con quei riscontri dei parlamentari quello è stato un passo di crescita significativa perché noi lì avevamo dei sindaci di tutta Europa che avevano firmato la petizione e avevamo avuto appunto un riscontro esterno che anche una persona che non gliene fotteva un cazzo di humans dell'idea del pane europeo poteva dire ah ecco in pieno covid questa cosa che anche a me sarebbe interessato poter dire a dei parlamentari europei con questa petizione siamo riusciti effettivamente almeno a fare arrivare questa rocce cioè un segnale di efficacia i segnali di efficacia che possono essere la disobbedienza civile un ricorso giudiziario una manifestazione il software che si inventa Stefano che fa vedere le facce e magari la prossima volta quell'altro che proietta sui muri cioè dei segnali di efficacia cuore con il forum efficacia nella discussione anche efficacia nel far venire fuori delle idee cioè è molto importante che il discorso statutario rimanga saldato costantemente con le iniziative e la loro efficacia può essere la questione ecologica a livello comunale regionale eccetera e quindi per questo dico la campagna stopglobalwarming.eu pensiamo alla questione non so il sindaco di Dublino che ha trovato Sibilla oppure insomma ci sono oppure la scrittrice spagnola che ha trovato ragazza Bau che non mi ricordo come si chiama di nome Elisa ci sono degli elementi che personalmente mi incoraggiano molto perché mi dicono questa è la direzione ma è la direzione di una marcia molto lunga per cui il passaggio stopglobalwarming.eu è da questo punto di vista fondamentale e lo dobbiamo tenere molto presente nel proseguire con questo ragionamento statutario ovviamente poi adesso vediamo che cosa siamo in grado di decidere subito ne riparliamo sempre anche alle riunioni del martedì ovviamente la stragrande maggioranza di chi c'era stasera non è intervenuto né avrebbe potuto farlo se fossimo intervenuti tutti per ragioni di tempo e quindi consideriamolo un dibattito aperto anche nei prossimi giorni sul forum e usando e leggendo il più possibile il materiale che vi ha mandato Virginia perché sono link molto preziosi per non parlare in astratto ma per parlare nel concreto delle questioni che sono sul tavolo questa sera quindi diciamo che questa è una riunione che a livello online e con testi scritti prosegue in questi giorni adesso vediamo quando convochiamo materialmente questa assemblea ma sicuramente diciamo la riunione di questa sera rimane aperta per iscritto online e poi ci continuiamo ad aggiornare very good l'abbiamo sfangata anche questa volta chiuderei la registrazione grazie a tutti grazie a tutti